Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di dialogare con Giancarlo Sturloni, giornalista scientifico, autore e comunicatore in ambito scientifico, sanitario ed ambientale. Giancarlo insegna comunicazione del rischio alla Scuola Internazionale degli Studi Superiori Avanzati di Trieste, insegna all'Università di Udine e all'Università dell'Insubria. Recentemente è stato anche nominato responsabile della comunicazione di Greenpeace Italia. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo di ambiente. Il concetto di antropocene è ormai entrato a far parte dei libri di testo. Come si può spiegare ai ragazzi che cosa sia l'antropocene? Ma in un certo senso c'era nei libri di testo ma non era così esplicito l'idea che gli esseri umani siano diventati una forza geologica, cioè in grado di plasmare il pianeta sotto molti aspetti. E lo si può raccontare in due modi. Uno forse è un po' distante ma curioso. Immaginare un geologo del futuro che tra milioni di anni arriva sul nostro pianeta, scava, più si scava più si va indietro nel passato, più si trovano le tracce del passato. A un certo punto incontrerà uno strato di roccia dove ci sono le nostre tracce in equivocaboli e sono i segni che noi lasceremo su questo pianeta in un futuro. Anche se scompariremo ci sarà una traccia di noi perché abbiamo fatto per esempio dei materiali come la plastica che sono ormai ubiquitari purtroppo e hanno anche dei gravi danni ambientali e che sono destinati a resistere molto a lungo nel tempo e quindi questa traccia indelebile di questi materiali che in natura non esistono, che abbiamo creato noi e che per avere dei vantaggi ma che oggi ci danno anche molti problemi, sarà sicuramente un segno della nostra presenza sulla Terra. Ma ce ne sono molti altri, alcuni molto curiosi, altri meno evidenti. Per esempio le tracce dei nostri test nucleari, quindi radionuclidi che abbiamo iniziato a condurre in atmosfera negli anni 50. Ci sono le tracce dell'incredibile quantità di cemento che noi utilizziamo per costruire le strade, le città, le infrastrutture. Pensate che addirittura stiamo finendo la sabbia a forza di fare il cemento, cioè la parte quella sabbia utile che non è quella del deserto ma quella che prevalentemente troviamo sulle spiagge o nei fiumi, che ha delle dimensioni, dei granelli più utili per fare appunto il cemento. Ne abbiamo sempre meno, a volte ci sono state addirittura che la importano da altri paesi. Anche questo lascerà una traccia di noi, ce ne sono altri ancora, pensando alle tracce del passato in cui guarderanno per esempio gli animali, le ossa degli animali. L'epoca dei dinosauri è caratterizzata dai resti fossili di questi grandi erbivori e carnivori. Noi nella nostra epoca troveremo soprattutto invece gli ultimi discendenti, quindi quelli dei dinosauri, cioè gli uccelli, ma in particolare i polli. Alleviamo così tanti polli per la nostra alimentazione che in peso su una bilancia sono circa il 70% di tutti gli uccelli che oggi vivono sulla terra. Le loro ossa saranno un segno inequivocabile di un momento in cui noi abbiamo fondato sui polli una parte importante della nostra dieta. Un modo diciamo più vicino a noi di comprendere il problema è guardarlo direttamente. Quando parlavo della plastica per esempio, parlavo del fatto che è entrata nel ciclo dell'acqua per esempio, che è qualcosa che si studia già molto presto. È sempre stato nei libri di testo il ciclo dell'acqua, ma oggi nel ciclo dell'acqua c'è anche la plastica. La plastica la dispariamo in gran parte nell'ambiente, la plastica finisce nei fiumi, dai fiumi nei mari, da lì evaporano i pezzi più piccoli, evaporano altri invece finiscono i fondali. Quando evapora il vento la porta ovunque, la troviamo anche ai poli. La respiriamo, la beviamo e anche dentro di noi ormai fa parte in qualche modo dei cicli naturali. È qualcosa che è avvenuto nell'ultimo secolo ed è incredibile. Per lungo tempo abbiamo pensato che il pianeta fosse da un lato abbastanza grande per darci tutte le risorse di cui avevamo bisogno, dall'altro abbastanza grande anche per assorbire tutti i nostri rifiuti, tutti i nostri scarti. Beh, non è così. Siamo vicini all'esaurimento di molte risorse, alcune sono tra l'altro non rinnovabili, come per esempio il problema che ci è dato dai combustibili fossili, per esempio, che abbiamo tra l'altro introdotto quando stavamo in Inghilterra e negli Stati Uniti stavamo finendo gli alberi per dare un'idea di quanto siamo voraci. Ecco, questa nostra presenza così invadente è ormai a un livello che è globale, cioè ha alterato i cicli, gli equilibri del pianeta e ci interroghiamo sulle conseguenze di tutto questo. È una scoperta recente, gli scienziati ancora stanno discutendo se davvero possiamo parlare di un'epoca geologica chiamata antropocene, è ancora in discussione, ma certamente non hanno alcun dubbio, la comunità scientifica non ha alcun dubbio sul fatto che siamo diventati un motore di cambiamento ambientale a livello dell'intero pianeta. Può farci tre esempi, a suo parere, significativi per avvicinare i ragazzi al tema della sostenibilità? Quando parlo di sostenibilità la prima cosa che cerco che cosa significa davvero, perché ormai è un termine usato un po' come il prezzemolo, ma abbiamo perso il significato. Deriva da sustain, cioè qualcosa che dura nel tempo. Quindi la domanda quando parliamo di sostenibilità con le nostre azioni, se questo potrà durare ancora nel tempo, se facciamo cose che non permetteranno alle generazioni future di rifare le stesse cose, di godere anche degli stessi benefici che noi oggi abbiamo. Questo è diciamo un concetto molto importante, ci dobbiamo interrogare, perché è un concetto che riguarda anche l'equità, riguarda l'equità soprattutto alla giustizia, soprattutto delle generazioni più giovani, quindi sono ovviamente i ragazzi e le ragazze che devono chiedersi se quello che diciamo stanno ereditando è un mondo sostenibile, cioè che durerà anche per loro, in cui anche loro potranno godere degli stessi benefici che la natura ci offre, oppure no. Questo è molto importante, credo oggi, avere in mente questa idea. Poi ci sono tanti esempi di cose, di fenomeni che purtroppo possono diventare irreversibili e che quindi diciamo, per esempio parlando di una delle più importanti è la scomparsa delle specie, la perdita di biodiversità, come si dice. Dall'invenzione dell'agricoltura, cioè circa 10.000 anni fa, le attività umane si stima che siano responsabili della scomparsa di una specie vivente circa ogni 20 minuti. Ogni 20 minuti che passano la nostra chiacchierata, forse dovrà un tempo del genere, ecco ci siamo persi una specie su questo pianeta a causa nostra, a causa del nostro impatto sugli ecosistemi naturali. Non riusciamo neanche a percepirne la gravità, però è un fenomeno irreversibile che viola appunto la sostenibilità e noi non sappiamo, è molto complicato capire quanto davvero perdiamo, perché quando perdiamo per esempio una specie arborea, quando perdiamo una specie di albero, non perdi solo l'albero, perdi anche il riparo per gli animali che ci vivono, quegli animali che ne traggono nutrimento, quindi c'è un processo a catena. C'era Paul Ehrlich che raccontava sempre questa immagine, immaginate di essere lì che state per prendere un aereo, immaginate che c'è un meccanico che ogni volta che prendete aereo lo vedete lì sulla pista che toglie una vite, due, tre, quattro volte a un certo punto prima di salire andate lì e gli chiedono, ma perché ogni volta toglie? Ma guarda io la tolgo perché tanto poi l'aereo vola sempre, non è mai successo niente, ma fino a quando non succederà niente? Fino a quando diciamo ci sarà quella vite che invece ci impedirà di poter godere di quello di cui, di poter godere fondamentalmente dei beni naturali che sono anche un fondamento per il nostro benessere e la nostra sopravvivenza. C'è una questione ovviamente etica, morale, ma c'è anche una questione banale che noi non siamo da soli, noi facciamo parte di quell'aereo, di quell'ecosistema, perciò riguarda come anche noi. Avrebbe delle proposte di esercitazioni da suggerire ai docenti e da proporre ai ragazzi in classe sul tema della sostenibilità ambientale? Sì, io non sono un esperto di questo, ma a me piace moltissimo per esempio l'idea che si sta diffondendo anche in Italia del debate, del dibattito. L'idea di prendere un tema che può essere affrontato anche da punti di vista diversi e dibatterne a gruppi, immaginando anche di invertirsi a un certo punto, che ha preso le difese di una certa posizione, cerca di passare dall'altra parte e capire anche quali possono essere le ragioni che stanno dall'altra parte. È molto utile, i temi ambientali secondo me si prestano perché ci sono molte tematiche controverse o comunque legate a tante incertezze, alla difficoltà anche di immaginare le soluzioni. Il dibattito può aiutare a sviscerare tutto questo, con la complessità. Noi non dobbiamo semplificare la complessità, dobbiamo riuscire a comprenderla, ad accoglierla, perché quando parliamo di crisi ecologica è tutto collegato, la plastica, il ciclo dell'acqua, ma anche per esempio perché il ciclo dell'acqua anche cambia? Perché è cambiato quello del carbonio, cioè noi continuando a bruciare combustibili fossili, emettiamo CO2 nell'atmosfera, alteriamo il ciclo del carbonio, l'atmosfera è più calda, i mari sono più caldi, evaporano più in fretta, eventi climatici estremi, alluvioni, uragani più potenti e di nuovo quindi il ciclo dell'acqua, è tutto collegato e noi siamo dentro questo grande ecosistema del pianeta. Quindi è chiaro che per comprendere davvero la portata della crisi ecologica bisogna riuscire a fare questi collegamenti e il dibattito è un momento importante, perché un insegnante può sicuramente aiutare i ragazzi e le ragazze a fare questi collegamenti, a interrogarsi su come sia tutto interconnesso e quindi quanto, siccome ci siamo dentro, quanto da un lato abbiamo un'enorme responsabilità, dall'altro quanto ci tocca da vicino. E poi un'altra cosa che mi piace come idea è quella di analizzare l'attualità e quindi anche diciamo per esempio prendere degli articoli giornalistici che parlano di queste tematiche e iniziare a farsi delle domande. Di cosa parlano esattamente? Come raccontano questo tema? Raccontano per esempio anche quali sono le cause, ma anche quali sono i colpevoli? Raccontano quello che possiamo fare a livello individuale, a livello collettivo? Cosa c'è in questo racconto? Un'analisi, un'analisi critica di quello che noi poi troviamo come informazione, sono temi diciamo che sì, sono ormai dentro i libri di scuola e non sono più nei box, sono diventati interi capitoli, ma sono anche temi con cui continuare a discutere anche fuori dalla scuola e questo sta succedendo sempre più spesso, una esigenza dei ragazzi della ragazza in realtà, no? Perché diciamo è chiaro che ci si sta interrogando perché lo sentono come giustamente, come un tema che davvero li riguarda nel loro futuro, ma anche nel loro presente. Devo dire che ci hanno visto lungo perché una volta immaginavamo appunto che fosse un problema per le generazioni future, no? Anche l'idea di sostenibilità nasceva un po' con questo concetto, qualcosa che alla fine non ci riguarda perché riguarderà quelli dopo di noi, invece no. Invece ci stiamo accorgendo come questi infatti ci riguardano né come, come avranno un'importanza in tutte le nostre vite, quindi non è una questione generazionale, è qualche cosa che ci riguarda davvero tutti e che nei prossimi anni, come già sta di successo, insomma, come una parentesi della pandemia, ci riguarderà sempre più da vicino. La pandemia è un altro tema secondo me molto emblematico per immaginare di sviscerare questi collegamenti, come dicevo, perché sappiamo che, per esempio, che tutti questi virus emergenti stanno diventando più, le pandemie e le epidemie stanno diventando più probabili per una serie di motivi che sono anzitutto motivi ambientali. Deforestazione, il fatto che le nostre città invadono zone rurali dove ci sono animali selvatici con cui veniamo in contatto e con cui ci possiamo scambiare virus e batteri, gli allevamenti intensivi, il traffico di animali selvatici e poi naturalmente le questioni che sono invece più strettamente legate alla società. Quando sono nato io sulla Terra eravamo alla metà. Quindi è chiaro che per un virus è un mondo molto interessante, un virus oggi si può spostare tra molte più persone, sempre in movimento, con gli aerei. Un tempo le pandemie non c'erano di fatto, nell'epoca premoderna, perché come facevi a superare un oceano quando un viaggio su una nave durava mesi? Le persone che si ammalavano se ne accorgevano prima di arrivare, molte morivano e a quel punto la nave veniva messa in quarantena, perciò era un mondo davvero diverso. Questa diversità è esattamente l'antropocene e ci riguarda come? Un po' perché stavolta siamo noi l'asteroide, siamo noi la causa di tutto quanto. È un po' perché questi impatti li possiamo anche cercare di ridurre, perciò nelle discussioni è molto importante chiedersi quali sono le cause, quali sono i rimedi. Poi se posso aggiungere, c'è una cosa che invece non mi piace moltissimo nell'approccio alla sostenibilità, è quando ci concentriamo soltanto sulle responsabilità individuali intese come se la colpa fosse nostra e quindi la nostra impronta ecologica. Allora io poi vorrei essere chiaro, i nostri comportamenti individuali sono importanti, ma non bastano. Sono importanti perché noi possiamo comunque incidere e dare soprattutto l'esempio, che è la cosa più importante. Se io mi comporto in un certo modo, le persone intorno a me si comporteranno probabilmente in un modo simile, siamo animali sociali. Però la soluzione a questi problemi, che sono problemi ormai globali, passa attraverso l'unione delle forze, passa attraverso la cooperazione, anche la cooperazione internazionale. Perciò è molto importante che tutto non si riduca ai nostri comportamenti individuali e addirittura colpevolizzarci quando non siamo capaci di essere degli asceti. Perché è difficile avere una vita sostenibile in un mondo che sostenibile non è, perché va a combustibili fossili, perché la nostra economia è un'economia predatoria, vorace, perché diciamo abbiamo costruito un mondo che non è sostenibile. E quindi è chiaro che la grossa sfida è unirci insieme per cercare una via sostenibile al nostro benessere, al nostro sviluppo. Lei è considerato anche uno dei massimi esperti di comunicazione del rischio, che è appunto una disciplina estremamente attuale in questi mesi di pandemia. Per Mondadori Editore ha pubblicato il primo manuale in Italia su questa materia. Qual è il principio fondamentale su cui si basa la comunicazione del rischio? È un principio apparentemente semplice, ma molto molto disatteso. Io lo dico così, mai negare, mai sminuire, mai nascondere un rischio. Avviene molto spesso, l'abbiamo imparato già ai tempi di Chernobyl, quando l'Unione Sovietica cercò di nascondere l'incidente nucleare più grave della storia, non disse nulla, ce ne accorsero in Svezia alcuni giorni dopo. Ma ci sono tantissime vicende che sono andate così. Per esempio anche durante questa pandemia ci sono stati delle nazioni, dei governi che sono stati davvero negazionisti. E a ben guardare è un danno. È un danno perché per esempio quando prendiamo gli Stati Uniti, il Brasile, l'India, paesi in cui i governi hanno negato a lungo la pericolosità del coronavirus SARS-CoV-2, lì troviamo il numero maggiore di casi, il numero maggiore di vittime. Perché è così pericoloso negare il rischio? Perché si impedisce alle persone di proteggersi. Se io nascondo il fatto che le persone sono esposte a un pericolo o sminuisco, gli dico no, ma è solo un'influenza, non ti preoccupare, ormai il virus se ne è andato, eccetera, eccetera, le persone che faranno, abbasseranno la guardia, non faranno abbastanza per proteggersi e questo può creare danni seri. Perciò noi abbiamo capito che la prima cosa importante è di essere trasparenti sui rischi per permettere alle persone di adottare quei comportamenti che gli permettono di proteggere se stesse e le persone che gli stanno intorno. Questo è essenziale perché nella comunicazione del rischio ci si salva tutti insieme, non è più qualcosa che riguarda solo le istituzioni che tra l'altro ci dicono che cosa fare, ma serve una cooperazione, serve comprendere bene perché bisogna comportarsi in un certo modo oppure no, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Ci sono dei principi, questo è il primo e il più importante, che ci fanno, che ci guidano a livello internazionale su come si può comunicare meglio il rischio con un obiettivo molto semplice che è quello di salvare vite umane. Ci sono momenti in cui la comunicazione diventa davvero importante, in una pandemia all'inizio quando non hai i farmaci, quando non hai ancora un vaccino. Non c'è altro modo che dire alle persone che cosa sta succedendo e cosa possiamo fare per proteggersi. Serve una guida e una guida che sappia comunicare in modo chiaro tutto questo in modo tale da poter far sì che le persone possano salvarsi. Di recente lei, tra i vari incarichi, è stato anche nominato come responsabile della comunicazione di Greenpeace Italia. Ci vuole raccontare qualche progetto realizzato da Greenpeace per le scuole? Sì, me ne vengono in mente un paio, anche se diciamo sono della pandemia, purtroppo anche lì insomma un po' rallenta tutto quanto, non è ovviamente la prima mission di Greenpeace, no? Ma certamente diciamo ci siamo interrogati quando abbiamo visto una azienda petrolifera come Leni che ha iniziato a fare invece attività didattiche nelle scuole sui cambiamenti climatici e allora ci siamo chiesti, beh insomma accidenti, lo fa Leni e noi non facciamo niente. Questo per noi è diventato anche, se io penso che in futuro dovremo impegnarci anche di più su questo fronte. Posso citare appunto un'iniziativa che si chiamava Scuola di Clima, che appunto cercava di mettere a disposizione degli insegnanti, si può ancora trovare sul sito di Greenpeace sotto la parte climatica, la disposizione degli insegnanti delle slide, dei materiali per spiegare che cos'è, cos'è il riscaldamento globale, cos'è la crisi climatica e ce n'era un'altra iniziativa che ricordo che si chiamava Kids for Forest che invece è più un'attività ludica, più in forma di gioco per i bambini più piccoli che invece racconta delle foreste, della loro importanza appunto come ecosistema cruciale insomma per tutti noi, per tutti gli esseri viventi di questo pianeta perché sono un po' il polmone del pianeta. Questi sono due esempi in cui Greenpeace ha cercato insomma di avvicinare il mondo della scuola in cui c'è una grande richiesta di formazione sia da parte degli insegnanti sia di confronto su tematiche che sono diventate davvero cruciali per le nuove generazioni, per i ragazzi e le ragazze più giovani fin dall'elementari e su cui credo diciamo sarà importante cercare di lavorare insieme anche in futuro.